Lista assolutamente, su due o tre ruoli si è pensato su alcuni calciatori, si sono stati dati dei nomi su alcuni calciatori ma con tutto il rispetto la vita viene fatta, si diceva che sia una pacchetta magica di giocare tutto nel senso che pone un problema di un giocatore però dopo quel giocatore si era accassato non per colpa rossa perché c'era un diritto di riscatto, era intanto un difensore centrale che io ho chiamato in prima persona purtroppo è stato riscattato dalla società perché c'era un diritto di riscatto da parte della società di Tenga Pro di C1 l'ha riscattato, a quel punto gli fai il calciatore e è andato dall'altra parte noi non abbiamo avuto tante richieste, non è che c'era, io chiedo a cinque giocatori e voi non mi dà è un rapporto cordiale, aperto, c'è chi pensiamo insieme, condivisione il tizio Caio Sempronio